Spiderman, altro studente scomparso. L'ultimo caso riguarda Steve Hopkins, ma c'è di più. Di recente una banda di Tombstone si è stabilita nel suo quartiere. Steve detestava quei balordi, ma aveva troppa paura per affrontarli. Se è corrotto potrebbe scaricare la sua rabbia su di loro. E rischiare una brutta fine. Steve ha postato quella foto prima di sparire nel nulla. Non ho trovato immagini più recenti. Sembrerebbe l'Hupper West Side. Devo proseguire verso nord. Se riuscissi a trovare un parco a... Sembrerebbe l'Hupper West Side. Devo proseguire verso nord. Philip, cosa puoi dirmi di Steve? È basso di statura. Non farebbe male a una mosca, neanche se lo volesse. Farà una brutta fine. Se è gracile, non durerà a lungo. Devo fare presto. Steve sembra un tipo di grandi responsabilità, ma niente potere. Spero di arrivare in tempo. Gli sgherri di Tombstone non sono invulnerabili come il loro capo, ma restano letali. Ecco il parco. La foto deve essere stata scattata qui intorno. La foto deve essere scattata qui intorno. E il posto è questo, vicino a quegli alberi. ...una brutta fine, eh? Ok, diamo una lezione allo studentello. Quel ragazzo non ne uscirà mai vivo. Prima di liberarlo dalla corruzione, devo salvarlo. Sono armati. Forse posso neutralizzarli con il silenzio. Sarà acqua fatto. Sta, manzetto! Preparati alla tua uniti, mappare stai. Andiamo a tenerlo a terra! È tutto ok, Steve. Ora... Steve? Insomma, ti ho appena salvato! E' per il tuo bene, signorino. Dio mio, che cosa ho fatto? Ho sempre odiato quei balordi, ma stasera volevo ucciderli senza pietà. Non posso neanche pensarci. Tranquillo, non è stata colpa tua. Non la immaginavo così, la vita da criminale. Non la immaginavo così, non la immaginavo così, non la immaginavo così.